Era ragazzi? Avevi dubbi? Vediamoci! Rimessa così, Dio buono. Occhio, bravo. Ma c'è il gatto, vai. Vai, 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 largati. È una volta troppo lunga. Porca fortuna. Peccato. Dio, una buona di nulla. Iscrizione, ma qua dai spallati. Bravo. Vai! Vai, Luca. Caglio. Sali! Che ascolta Mancio Junior? Ma mio! Senti là? È lui che fa casino. Ma perché ti cambia ultimamente? L'ha ricerato un'altra volta. Forse perché ha fatto dei cambi lui è un'umana tirata. Non è male. Non è male. Non è male. Non è male. Chi arriva a Fisa? No! 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 Fuori gioco! No! 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 Vai via ragazzi, ma chi è? Viglia! Vai ragazzi dai! Dai Tommaso dai! Vai! 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 Vai c'è! Ecco! No! Fischia più nulla! Fischia più nulla! Solo! 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 Madone corre l'altro Vai ma seguitelo Anche Madone Quante palle si è buttato via in area Cazzo Bravo Forza Facci picchia Tira Va bene Vai Tommy Che sceo Allargati Affronta Vai Tranquillo Piano Calma Anche qua Vai Larry Al volo Veloce No Che cacata Vai Fira Guarda che cazzo la può portare Vai lei è tua Attenzione Il nove Vai 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 Se l'ha fatta Non fa più Bravo tu Si si è una categoria protetta Sì si 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 Ci la metti Vai Matti Dio ma non andiamo Oh mio Dio Dio Bravo Braga Omo Berga Vai Matti Grazie Dio buono Dio buono Vai Leo vai fascia Vai 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 a pressare Mi cadete insieme Matteo i pergamini bravo lorenzo bravo secondo me fa casino fra l'arancione e il rosso dal tonico o guarda il colore dei calzini bravo che lo sai vai Leo valla i sali di là di là si 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 troppo lunga eh si no 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 la prendo la prendo è angolo eh madonna di Dio ma come Albi è angolo oh oh ragazzi vai Leo aiuta tira 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 rigore rigore mano aria Leo aiutalo vai vai il giro lo dà ora no c'era un genio c'era un genio aiuto no 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 Francesco su vale Francesco non la fa uscire attento ma che fuori buona buona mettila dietro un lenzo su lo farò farò bravo finistro ben azioni cazzo vedi? apri non è io penso è toti dal sole madonna madonna siete due siete due davanti dai dai non lo perdere bravo 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 Matteo da Lorenzo è ormai andata madonna vai vai lori c'è arrivata no vabbè tanto è nostra pensavo fosse la testa e invece c'è oh madonna vai Lorenzo vai rientra ora aiuta oh oh che fate? la guardano sfilare fa posizione fa posizione che scerrosi oh grazie a tutti 16 minuti vai Sarri vai Sarri sono di povere da lì madonna è buo di culo ma è buo di culo sulla fascia sulla fascia vai 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 ti do un po' a fallo vai c'è qui la buttata là vai 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 citto bravo si però nel mezzo qualcuno eh ma romancino nooo allarga allarga vai Lorenzo vai gliela Lorenzo oh madonna vai Leo fatti vedere no 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 vai ma quel ragazzi eh lì ha ragione vai vai rientra gli si doveva fare gore non ci rimane oh rientra coprilo dietro bravo ahia cosa contropallo troppo difficile non ha capito come funziona attento ma è ma buona è rimasta salire salire cazzo quello è stato sempre un difetto eh siamo messi siamo lì va bene tagliarci l'angola ancora no 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 madonna bravo 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 vai vai ancora vai più avanti bravo 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 eh vai entra entra tutta di là tutta di là tutta di là di là no no sul culo riandala a questo punto tira vai lori vai dietro dai lo spiro dai lo spiro dai lo spiro vado a me solo madonna no 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 proprio guarda grazie leo rientra troppo su ora che c'è madonna e botta ho capito no quindi non poteva annullare aiuto bravo vai 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 pietro vai pietro vai pietro aspira dietro francesco va dentro ma rinna buona bravo rientra vai mancina tua vai vai pietro vai pietro tira allora pietro nooo vai lorenzo che scemo che fisica ma questo è scemo ragazzi aiuta aiuta 10 minuti 10 minuti 10 é 2 non gli riesci non gli riesci ma come gli riesci c'ha un tiro e porta via la forza a casa mia in campo in campo ma nella camera da letto ahia aia no i piedi su piedi? madonna vai c'è tuo vai via via no ragazzi attento visa vai c'è c'è ce l'ha fatta rialzare io cosa sa quindi? chi vince l'anno scorso aveva vinto aveva vinto il tuo se non ci sta vincendo la squadra attenti attenti pese e fallo eh fallo non si fa neanche male attenti occhio 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 rigone bravo 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 è il mio regolo madonna e si fa la vostra eh sì ma io ma chi? ma chi? meno male vai vai corri Pietro vai Pietro ma che fai? l'ha tirato per la maglia dai no ma gli dai vai mmm ma che è questa? sento madonna ma tutti aiuta aiuta ora si tutti in impatti li tocca ci servono leggere noi nel primo tempo no ora tutti guarda qui lo fa girare oi 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 no no piano Eugenio piano appoggiala lì accanto ciao ciao vai vai parti 2 a 2 allora ora è finita comincia il tempo vado al dotto vai dietro vai adesso vai vai adesso vai chiudila vai no vai si è fatto spingere da un tabarino si è fatto spingere da un tabarino era macchia anche l'albino anche l'albino andiamoci alla Juve andiamo finita un quarto alle nove mi dispiace se non è male al paulina cal treasures le due le due non